Amiche amici di Rossini TV, oggi siamo nell'atrio della sede principale dell'Università degli Studi di Urbino. Si trarà la conferenza di presentazione del piano di comunicazione, il piano attraverso il quale si tenterà di reclutare matricole per il prossimo anno accademico. Questa scelta è stata fatta un paio d'anni fa, cioè quella di comunicare tramite il sentimento degli studenti più che mandare dei messaggi pensati da qualcun altro. Quindi abbiamo voluto coinvolgere gli studenti in questa campagna di comunicazione e capire quali fossero i messaggi ai quali fossero più sensibili. La nostra idea è stata quella di dare voce alle studentesse e agli studenti affinché spiegassero ad altri potenziali studentessi e studenti come muoversi all'interno della nostra Università. Perché venire a Urbino e quali sono i valori principali della nostra Università. Così è nata l'idea di far curare da Paolo Iabichino una campagna di comunicazione fatta appunto da pari per i pari e costruire un modello nuovo di racconto dell'Università. Uscire dai cliché e lavorare su una vera e propria campagna manifesto perché è quello che hanno proposto le ragazze e ragazze nel corso di laurea magistrale in comunicazione e pubblicità per le organizzazioni che è un loro modo di dire le cose e di collocarsi all'interno del mondo e nel farlo di dare una collocazione alla nostra Università. La campagna di matricolazione è diventata una campagna militante in cui l'Università di Urbino grazie alle scritture di questi ragazzi e di queste ragazze prende posizione decisa ricorda ai suoi futuri iscritti, alle scritte insomma quale deve essere il ruolo di un'Università, quale deve essere il ruolo di una docente come accogliere un esame e come in buona sostanza fare dell'Università una comunità all'interno del quale inserirsi per diventare non solo buoni studenti ma soprattutto buonissimi cittadini.